Ciao ragazzi, benvenuti tornati al canale. Facciamo qui il canale. Allora andiamo alla macchina e facciamo. Ok, ora usciamo qui il canale. Questa è fuori. Molto bene, non? Ok. 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 Prefetto di usare l'ER40 perché in questo modo non saranno dapperti il boss qui. Ok. 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 e ora dobbiamo indicare queste cose qui ma il risultato non è completato ora dobbiamo rilassare questo e mettere l'intervento per fare il tappo quando questo sarà fatto non necessitiamo più di tutti questi blocchi sai perché mettere in centro il tappo e puoi usare il tuo turretto rigido questo è il motivo di creare questo tappo perché tutto il tempo bisogna disassemblerci bisogna trovare un prezzi prezzi con il colonna non è così facile diciamo pratico ma con questo tipo di tappo potete fare il tappo in un modo molto facile guarda come è bello questo marco 0.01 questo è l'intervento questo è l'intervento questo è il parte l'intervento ok ok quasi Questa è la prima volta. perfetto perfetto bello ok mettiamo qui ora laviamo questa face e questa e 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 ok e e e e wow beautiful man run very nice e 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 ok ragazzi e 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